Messina, capitano le gambe di Dio, agli ottavi di ritorno, la rimontata è riuscita, bellissima partita, grande spettacolo, grande agonismo soprattutto. Puntavamo molto alla vittoria, dovevamo ribaltare il risultato dell'andata. 6 a 5 alla metà era finita, non era un gol, quindi non era per niente chiusa la partita. Ci abbiamo creduto fino alla fine, abbiamo fatto un'ottima partita, spettacolo, ci vediamo ai quarti. Ok, buona messina.